Ciao a tutti lettori, bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia, abito in provincia di Bergamo, faccio l'insegnante di lettere e qui su Alibrary parliamo di libri. Oggi stiliamo insieme la TBR del mese di settembre. All'inizio dell'anno mi ero ripromessa di stilare insieme a voi una lista di libri da leggere durante ogni mese, in modo tale da lasciarmi meno influenzare dalle mode del momento e dalle ultime uscite e magari smaltire qualche libro in più dalla pila della vergogna. Poi ho evidentemente smesso di proporvi questo tipo di contenuto perché ho letto molto poco durante la prima metà dell'anno, però adesso vorrei ricominciare a stilare all'inizio di ogni mese la mia TBR. Io adoro fare le liste, adoro le liste delle cose da fare, poi non le rispetto quasi mai completamente, però io sono una persona molto caotica, molto disordinata, molto lunatica e quindi quando ho molte cose da fare mi risulta utile elencarle per punti in modo tale che io riesco a visualizzare che cosa mi aspetta. Poi magari non rispetto i tempi che mi sono prefista, poi magari cambio l'ordine delle cose, però scrivere nero su bianco le cose da fare mi aiuta moltissimo, anche a non lasciarmi prendere dall'ansia e dall'angoscia. Visto che questa tecnica funziona per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda l'organizzazione delle attività della casa, volevo provare ad applicarla anche per quanto riguarda le letture. Ovviamente non voglio approcciarmi alla TBR in maniera rigida, voglio semplicemente che sia uno strumento per organizzare meglio le letture. Ma veniamo al dunque, parliamo dei libri che vorrei leggere durante il prossimo mese. Allora, il 16 settembre se non sbaglio verrà assegnato il premio Campiello ed è già stata annunciata tempo fa la cinquina dei finalisti e quindi vorrei leggere alcuni tra i cinque finalisti al premio Campiello. Ho già in lettura 100 milioni di Marta Cai che, mannaggia la miseria, non trovo. So di averlo in casa da qualche parte, anche perché lo sto leggendo adesso, però chissà dove l'ho messo. Penso anche che quando uscirà questo video sul canale l'avrò già concluso, perché comunque si tratta di un libro molto breve, racconta di un insegnante che ha un'infatuazione e si innamora perdutamente di un suo studente. Un libro che si concentra molto sull'introspezione psicologica, sull'analisi psicologica dei personaggi più che sulla trama, anzi la trama è pressoché in esistenza e perlomeno fin dove sono arrivata ora. Sono già a buon punto, quindi ripeto, quando uscirà questo video probabilmente avrò già concluso questo libro. Poi vorrei recuperare la Sibilla di Silvia Ballestra, che era candidato al premio Strega, è entrato a far parte anche della Cinquina del Campiello e siccome appunto me l'ero comprato quando era uscita la dozzina, questa mi sembra un'ottima occasione per recuperarlo. Fermo restando che è una candidatura che mi ha lasciato un po' così perplessa, che mi lasciava già perplessa ai tempi del premio Strega, perché in effetti la Sibilla è la biografia di Joyce Lussu, scrittrice, partigiana, intellettuale diciamo a 360 gradi. Si tratta però di un saggio, non è un testo narrativo. E quindi mi aveva stupito la candidatura al premio Strega. Mi stupisce ulteriormente la candidatura al premio Campiello, a questo punto mi sono detta leggiamolo e vediamo che cos'ha di così speciale questo libro. Sono curiosa di leggerlo, vedremo. Infine, sempre per quanto riguarda il premio Campiello, vorrei leggere Diario di un'estate marziana di Tommaso Pincio. Io di Tommaso Pincio non ho mai letto niente, mi vergogno anche un pochettino, e quindi vorrei cogliere questa occasione per rompere il ghiaccio con quest'autore. Ovviamente se volete consigliarmi qualche altro titolo di quest'autore, lasciate un commento qui sotto. Poi, verso la fine di luglio, prima di partire per le vacanze, mi sono scaricata su Kindle, ho preso in prestito un po' di libri in formato digitale, proprio per leggere durante le vacanze. E ero alla ricerca di libri brevi, viagili da leggere magari durante il viaggio aereo, durante i viaggi in treno, in metro, e mi sono imbattuta in Una cosa divertente che non farò mai più di David Foster Wallace, che dovrebbe essere un libro molto divertente, una sorta di reportage che l'autore fa di un viaggio in una crociera di lusso. Me l'ero scaricato, vi dicevo, nel mese di luglio, poi alla fine non l'ho più letto. Qualche giorno fa però ho guardato le prime pagine, mi sono leggiucchiate le prime pagine, mi sembra una lettura effettivamente spassosa, divertente, e quindi mi piacerebbe proseguire la lettura durante il mese di settembre e finirlo. Visto che ce l'ho su Kindle, l'ho preso in prestito, ce l'ho, e sennò va a finire che poi cade nel dimenticatoio e non me lo leggo più. Infine ho pescato dallo scaffale un libro che mi sono comprata, non mi ricordo neanche più quando, questo è stato uno dei miei acquisti sconsiderati, ed è Matrix di Lauren Groff. Vi leggo la sinossi, giusto per capirci. Inghilterra, XII secolo, Marie, bandita dalla corte della regina Eleonora d'Aquitania, che ama di un amore ardente una ragazza sola, figlia illegittima di re, inutilmente colta, inutilmente appassionata, destinata com'è una vita di clausure in una abbazia che ha conosciuto giorni migliori, abitata da un piccolo popolo di donne inacidite e dalla segregazione di spettose, anche solo vecchissime. Allora, io mi fermo qui, perché io dopo le parole XII secolo e Eleonora d'Aquitania non ho capito più niente. Io quando si tratta di Medioevo non riesco ad essere oggettiva. Non ho sentito grandi cose su questo libro, ho sentito più recensioni positive che negative, però purtroppo le ho viste dopo averlo comprato. E quindi io direi, me lo leggo e vediamo. Un viaggio nel Medioevo non potrà essere poi così male, dico io. Questi sono i libri che vorrei leggere durante il mese di settembre. è una TBR abbastanza ambiziosa, considerando che settembre per me è un mese molto pieno, però insomma, vediamo quello che riuscirò a fare. Scrivete, mi raccomando, nei commenti i libri che state leggendo o che leggerete durante il mese di settembre. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei contenuti. Vi auguro, sia che siate genitore, sia che siate studenti, un buon inizio scuola. Mando a tutti un bacione, un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!